bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e lei è rosita non incominciare non incominciare allora ragazzi miei siamo qua oggi perché vogliamo fare il sunto della situazione quotidiana settimanale che portiamo ogni volta dove diamo a tutti i ragazzi che si sono appena avvicinati a what the hen tutti i codici che sono ancora funzionanti esatto e disponibili tra l'altro in questi giorni sono usciti due tre codici molto molto belli ma noi prima andiamo a scavare un po indietro per vedere e infatti inizierei da questo dirgli un po cosa gli da 10 ma la torta questo ragazzi ha un codice vecchissimo che vi darà 10 ma la torta in alto a sinistra e esatto andiamo a inserire il primo codice di oggi ragazzi che è crystal vediamo se funziona ancora mi raccomando cliccate su invia codice se andate da bluestack esatto non cliccate invio potrebbe non funzionare e crystal funziona ancora ragazzi 10 ma la torte per voi incredibile questo non lo tirano proprio via se ne sono completamente dimenticati andiamo quindi con il codice numero due ragazzi che ci è stato rilasciato qualche giorno fa forse ancora attivo vi ricordo che i codici hanno una scadenza di sette giorni quindi attenzione ad essere molto veloci ad usarli dirgli un po cosa... porca se io avessi 100 gemme me ne scapperei e caraibi me ne scapperei beato te beata te game time ragazzi andiamo a vedere andiamo a vedere se va e funziona game time 500 di gold e 100 gemme per voi subito un bell'inizio ragazzi se ancora non avete iniziato non far partire la rossita non far partire la rossita andiamo a provarne un altro subito ragazzi il codice numero tre dovrebbe funzionare anche questo molto interessante anche se è una carta che troverete che non si usa molto spesso digli amore mio che cosa troveranno 5 boomer anna sweet kid ragazzi sweet kid andiamo a vedere se c'è andiamo a vedere buia e funziona 5 boomer anna vi ricordo ragazzi boomer anna ha l'abilità unica di avere il boomerang quindi quando colpisce il colpo vale doppio perché il boomerang torna indietro e fa esattamente lo stesso danno del primo ci spostiamo ci spostiamo sulla roba vecchia ci spostiamo sulla roba vecchia questo è un altro codice ragazzi che c'ha più anni di me questo codice c'ha più anni di me cosa gli regala cosa gli regala 15 arkinson soldato ma prima di darvi il codice ragazzi vi ricordo di mettere un bel like mi sta piacendo il video dai ragazzi dai 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 un sacco di like un sacco di like per il video e quando vi iscrivete al canale mi raccomando di attivare sempre la campanella attivate la campanella ragazzi per avere sempre aggiornati tutti i video che pubblichiamo e che pubblico il codice forza che non siamo qua a perdere tempo giustamente non è valido perché non l'ho inserito clicco il coso di window grand pa vediamo se va vediamo se va vediamo se va poton funziona non lo tolgo questo c'ha questo codice c'è da prima che io iniziasse a giocare a what the end pensa a te così come questo ragazzi andiamo sul sicuro andiamo sul sicuro ragazzi questo vi darà rosita se c'è facciamo il ballettino ne rossita vi darà 10 esatto flower power vediamo se va vediamo se va e l'alcolizzata le alela e il balletto dell'alcolizzato si funziona yeah oh yeah così 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 andiamo ragazzi abbiamo ancora qualche codicino ancora qualche usatela è un po così allora andiamo inserirne uno ragazzi questo forse non funziona più questo forse non funziona anzi prima di dargli quello che forse non funziona gliene diamo uno che sicuramente funziona questo per evitare di poi dover andare a tagliare la parte questa ragazzi funziona perché è uscito ieri è uscito ieri quindi 100k 100k fans andiamo inserirlo ma dai ma dai ma dai mille di gold ragazzi per 100k fan 20 gemme in più per voi andiamo ragazzi direi che non è male direi che non è male l'ultimo se funziona da non funzionerà mai non funzionerà mai vediamo se va vediamo se va era halloween 2017 pronta vediamo a è scaduto fa niente ragazzi fa niente lo sapevamo lo sapevamo che era veramente molto poco probabile che il codice avesse ancora modo di essere usato quindi ragazzi ultimi codici ancora funzionanti aggiornati a oggi ve li abbiamo appena dati possiamo solamente ringraziarli per essere stati qua a guardare questo video vi ringraziamo ciao ragazzi alla prossima ciao ciao